L'autore del Vecchio e il Mare ha avuto una vita travagliata, più che dalla sfortuna e i suoi mali sono arrivati dalle sue scelte. Figlio di un medico e una musicista, Ernest Hemingway è cresciuto a Doc Park, circondato da una madre e un padre decisamente religiosi e un gruppo nutrito di sorelle che ripiegavano su di lui per qualsiasi cosa. Spirito intraprendente, a soli 19 anni decise di arruolarsi con la cruce rossa e venire in Italia per vivere il brivido della grande guerra. Brivido che conobbe da vicino, riportando una ferita alla gamba che gli stava costando la vita. Hemingway era ancora ben lontano dal divenire lo scrittore che vinse il premio Nobel per la letteratura. Nessun il Vecchio e il Mare c'era all'orizzonte, ma già il suo carattere letterario si stava formando. In quell'ospedale di Milano, dove venne ricoverato, conobbe Agnes Von Kuvoski, di cui si innamorò perdutamente. Di quell'amore ci rimangono solo i ricordi degli amici e le lettere di Agnes, che tratteggiano un quadro dello scrittore decisamente diverso da quella a cui ci ha abituati. Con Fatima Mutarelli parleremo di queste lettere. Fatima Mutarelli è autrice del sito dilloconunalettera.it, è presente anche su Facebook con lo pseudonimo di ragazza alla finestra, poliedrica, poeta. Fatima ci porta in un mondo dove la parola diventa dolcezza e la dolcezza una lettera da scrivere. Allora, ne esce l'immagine di un uomo, di un ragazzo molto fragile. Sebbene nelle lettere questa donna sottolinea molto il carattere gioviale, ironico, scherzoso e forte di Ernest Ingue, lui nelle lettere è una persona innamoratissima e quindi fragile, che chiede continuamente conferme all'amata e quindi Ernest si spoglia di qualsiasi curazza o di qualsiasi immagine, come dici tu, di persona forte, sicura e che ha padronanza di sé. E quindi dal basso, dall'alto dei suoi 19 anni, c'è questo ragazzo completamente perso per questa donna, che gli rivela forse le parti che ha tenuto nascoste alle altre donne. C'è un Ernest completamente diverso, lei ha sempre questi nomignoli molto carini, lo chiama bambino, kid, cucciolo, i nomignoli tipici tra due fidanzatini, ma penso che al di là del bambino in sé, perché loro avevano questa grande differenza di età, lui aveva 19 anni, lei 26 anni, e perché Ernest si affida completamente a questa donna, gli rivela qualsiasi aspetto di sé attraverso questa corrispondenza epistolare ed Agnes lo accoglie. Nell'Ernest delle lettere c'è l'Ernest che lascia la parola un po' così com'è, non è ricercata, non la approfondisce, nonostante nei suoi libri lui era giornalista e quindi la parola è sempre molto diretta e sempre molto pulita, ma lì non c'è la paura. Forse come l'abbiamo un po' tutti quanti, quando scriviamo qualcosa, di stare lì a cercare la parola che si incastri bene nella fase per fare effetto. Ernest nelle lettere la lascia così com'è, la regala completamente all'amata come alla sorella, come alla famiglia e forse è qui la bellezza, non si preoccupa della parola in sé, ma cerca di mettere a nudo completamente le proprie emozioni, forse quello che non farà Ernest Sittore per cui nei suoi libri c'è tutt'altro stile, tutta altra linea di scrittura. Tutti quanti quando scriviamo una lettera parliamo a noi stessi, la lettera è un po' come una foto scattata tempo fa e la confrontiamo con quella che è la nostra persona di oggi e chiunque si avvicini ad una lettera e chiunque voglia conoscere Ernest, io gli consiglio di partire dalla corrispondenza e dalle lettere che lui mandava alla famiglia o in questo caso ad Agnes ed è uno sfogliare un album di foto. Hai qualche pezzo che ci vuoi leggere che ti è rimasto più impresso? Sì, allora come ho detto prima la maggior parte delle lettere sono quelle che scriveva Agnes ad Ernest perché nella corrispondenza di Ernest verso Agnes le lettere sono state la maggior parte perdute, si dice che Agnes le abbia bruciate perché il fidanzato successivo era geloso di questa corrispondenza. C'è una lettera molto carina dove Agnes che è stata dipinta un po' come una donna fredda, cinica, materialista evidenzia questo amore per Ernest e è come se mi delineassi un po' i tratti caratteriali e lo incoraggia nella scrittura. La lettera è datata 17 ottobre 1918 e dice Erni carissimo, oggi ho ricevuto una lettera così cara e neppure me l'aspettavo perché non pensavo di avere tue notizie prima di domani. Ti dico subito una delle ragioni per cui mi è piaciuta così tanto. Immagino che ogni ragazza piaccia sentirsi dire da un uomo quanto è cara e come lui non possa vivere senza di lei. Anche io sono un essere umano e quando tu mi dici queste cose vado in sul lucchero e non posso fare a meno di crederti. Così non devi temere che mi stanchi di te. Non ho ancora incominciato a preoccuparmi sul serio, come fai tu adesso, della possibilità che tu non mi voglia più bene. Però ogni tanto ci penso e i miei pensieri non mi piacciono affatto. Tesoro caro, non andartene in giro con quell'aria afflitta. Preferisco ricordarti come eri spesso di mattina, sorridente e sprizzante di gioia vera e preferisco sempre immaginarti con il tuo famoso sorriso. Quindi non rovinare il quadro più di te mettendo sul broncio in questi giorni come se ti avessero bastonato e scrivimi tutte le volte che hai dei francobolli. Ho letto tre volte la tua lettera di oggi e adesso le darò un'altra occhiata. Non avrei mai pensato di comportarmi così scioccamente. Sai benissimo di essere in forma smaiante, ha un'aria così splendida e riposata e i tuoi modi sono così allegri tranne quando ti va la luna di traverso ma lasciamo perdere e poi delle idee così splendide nelle cose che contano e poi sai benissimo di avere il dono della scrittura, non devo essere io a dirtelo. Sommando cosa a cosa sei l'uomo migliore che abbia mai conosciuto e mai conoscerò. Mi ha preso la desolazione più tremenda qui lontano da te e dai miei amici ed ho neppure scoperto una bellia che mi aiuti a passare il tempo. Non sono in ospedale della Croce Rossa americana, così indirizza solo a Croce Rossa e non avrò problemi a ricevere la posta. Buona fortuna tesoro e non dimenticarmi e rammenta che ti amo, tu Agnes. Il luogo ideale dove la parola è di casa, dove scriveva Hemingway, dove traeva ispirazione, potremmo dire dal cuore. Eppure tutti gli scrittori hanno un ambiente ideale. Con l'architetto Francesca Donati entreremo nella stanza dello scrittore. La stanza che più gli è stata cara nella vita, perché la stanza in cui è tornato più volte, dopo essersi affezionato alla città di Key West, dopo il soggiorno parigino eccetera, lui si fermò in questa dittatina e lui rimase conquistato e qui scrisse a dio alle armi, scrivendo sempre la mattina presto eccetera. E lui fu conquistato da questo luogo e qui comprò casa. Comprò casa e qui c'era la stanza che più gli è rimasta nel cuore, perché è sempre tornato in questo luogo, anche quando poi si era trasferito ed era lontano da Key West, sempre tornato negli anni 50 e 60, tornava sempre ogni tanto in questo luogo per cui era di padre. E oggi è un museo questa stanza, questa sua casa. Questa casa in stile vittoriano che è stata costruita nel 1850 e poi lui rimaneggione, diciamo questa casa è stata rimaneggiata completamente a suo gusto che gli è anche costata tale. Infatti c'è ancora la leggenda che dice, che poi è una leggenda fino a un certo punto, perché c'è ancora il Penny nella piscina, che lui praticamente aveva speso talmente tanti soldi, che alla fine disse, ecco questo è l'ultimo Penny, ve lo lascio nel cemento fresco. Infatti c'è ancora questo Penny nel cemento della piscina. E a parte queste storie, diciamo si vede ancora come questo ambiente sia estremamente pulito, pareti bianche, luminose, perché lui aveva bisogno di lui, era una persona che aveva bisogno del contatto con l'esterno anche quando si trovava all'interno. Infatti gli scriveva la mattina presto, poi dopo scappava nel pomeriggio per andare a visitare i luoghi, per fare passeggiate, stare nella natura. Quindi anche come si legge in questo racconto, un posto pulito e illuminato bene, lo ripete più volte, c'è bisogno di un luogo con la vita pulito e fresco. Quindi anche nei caffè, lui cercava sempre, nei caffè, nei locali, cercava sempre questo ambiente non troppo rumoroso. Infatti c'è una frase proprio che dice, non è necessaria la musica. Perché probabilmente la musica offuscava i pensieri, non lo so. E infatti si vede da questa casa con le grandi vetrate, superfici bianche e scrivanie. Infatti lui aveva un amore per l'arredamento, un arredamento anche in stile un po' ritroppo. Infatti lui aveva una collezione di mobili del Settecento e del Seicento. E tra questi rientra questa scrivania bella massiva, di quelle importanti. Però semplice, perché sopra non aveva tanti minoli. Quindi c'era anche una piccola libreria nella Settecento e si vede ancora, con pochi libri però sempre semplice, pulito. Minimalista. Minimalista, sì. Poi lì si faceva anche circondare da un sacco di gatti. Quindi la stanza doveva essere anche un'abitazione per i gatti, per le sue gatte. Un ricovero per questa. Un ricovero, ne arriva tantissime. Una cosa molto interessante su Ernest Hemingway riguarda il fatto che lui amava scrivere, sia in posti dove non c'era assolutamente confusione, nemmeno musica, ma traeva ispirazione in locali quali possono essere i bar. Si sedeva spessissimo a Cuba, uno dei locali principali, dove si dice abbia poi scritto anche o abbia tratto ispirazione, abbia sentito dire di questa storia particolare che poi ha dato origine a vecchio mare. Scrivere ad esempio in questi bar, che non erano bar come li intendiamo adesso noi, erano bar diversi. Tu andati lì potevi stare anche tutta la giornata. Ovviamente Hemingway ci poteva stare perché poteva permettersi la giornata di non fare nulla. Purtroppo qui, soprattutto in Italia, si è persa questa tradizione del bar letterario. E' effettivamente una cosa abbastanza triste perché questi scrittori, questi personaggi, questi letterati, traevano effettivamente ispirazione dalla frequentazione di questi bar, da questi ambienti raccolti però frequentati da tante persone. Tante persone che però avevano comunanza di interessi, che semmai erano anche personaggi di dubbi, dubbi costumi perché da lì si ubracavano dalla mattina alla sera, però usciva sempre la parola ispirante. Hemingway, ovviamente come tutti gli scrittori, si metteva lì, osservava, ascoltava le conversazioni altrui, guardava gli atteggiamenti. Si vede chiaramente da alcune cose che ha scritto, come tutti gli scrittori, l'osservazione della realtà, l'ispirazione dell'ambiente. Quindi questi ambienti rumorosi, però essendo appunto letterari, rumorosi di cose piene di significato. Creativi? Esatto. Se volessimo dare due tipi di consigli a chi deve aprirsi un bar? Perché non c'è una formula per stabilità. Però da persona che ama leggere, credo che oggi si faccia un errore nella progettazione di questi bar, perché spesso si tende a creare degli ambienti o troppo bui o in cui viene sottolineato un tipo di arredamento troppo pesante o che crea rumore con la musica o anche con colori troppo forti. Questo non favorisce l'ispirazione perché effettivamente un ambiente pulito, semplice, può dare più spazio ad altro. Un locale rumoroso dove per parlare bisogna urlare, oppure un locale dove i colori sono troppo scuri e non si riesce neanche a leggere il menu, ovviamente non può dare vita a un tipo di bar letterario come lo poteva intendere Hemingway e quindi come lo poteva intendere uno scrittore, qualcuno che va in un bar per trarre ispirazione ma anche per rilassarsi, per pensare. Ci sono determinati ambienti, determinati arredamenti, gli arredamenti chiari per esempio possono dare vita a un'ispirazione migliore rispetto a delle luci troppo pesanti o luci assenti in alcuni casi, troppo buesi. Invece il secondo consiglio per la stanza dello scrittore, quali consigli possiamo dare? Sicuramente a tornarsi delle cose che si ama. Le cose che fanno pensare a ciò che c'è di più bello perché credo che nello scrivere la prima cosa è essere non tanto sereni ma rilassati, quindi cercare di concentrarsi su quello che si vuole dire. Per fare questo bisogna avere accanto ciò che dà forza perché altrimenti si cade e si inizia a pensare a cose troppo negative, anche se si vuole scrivere una tragedia. Comunque accanto credo non si debbano avere cose troppo negative. Per concludere mi piacerebbe che leggessi un piccolo pezzettino di un posto pulito e illuminato bene che rende benissimo il concetto dell'ambiente. La luce è brillante e piacevole ma il bancone non è lucidato, disse il cameriere. Il barista lo guardò ma non rispose. Era troppo tardi per fare conversazione. Vuole un'altra copita? chiese il barista. No grazie, disse il cameriere e uscì. Non gli piacevano i bar e le bodegas. Un caffè pulito e ben illuminato era una cosa molto diversa. Ora senza più pensare sarebbe andato a casa nella sua stanza, si sarebbe coricato sul letto e finalmente con la luce del giorno si sarebbe addormentato. Dopotutto si disse è probabilmente solo insonnia, deve essere un problema abbastanza comune. e con la luce, l'illuminazione e la pulizia ti ringrazio tanto e ti do appuntamento la prossima volta perché abbiamo una grande sorpresa perché c'è un nuovo personaggio. e che sia un'altra coperta da un'altra coperta. Ci sono invece che ci sono piaciaciate. Infine del piano. Questa è un'altra coperta da un'altra coperta. Questa è un'altra coperta è un'altra coperta. Era come andare a cento all'ora con una macchina che aveva sempre il pieno. Ernest Hemingway disse così la sua vita senza fermarsi mai, cercando di scrivere ovunque si trovasse, in qualsiasi stato di salute, anche quando era allettato e non poteva. Il suo dolore maggiore era quello di non poter scrivere. E quando un giorno, dopo l'incidente aereo in Nairobi e una sequenza quasi assurda di incendi che gli causarono l'ustione su gran parte del corpo, fu l'impossibilità di scrivere il suo dolore più grande. Debilitato e senza forze, Ernest Hemingway incontrò la sua vera nemica, la depressione. Con la dottoressa Sara Bucafusca, entreremo negli stati d'animo dello scrittore e cercheremo di capire i motivi che lo spinsero a compiere il gesto estremo del suicidio. Hemingway sembrava un maccio, ma in realtà poi le persone che lo conoscevano, ad esempio ho letto alcuni articoli che ha scritto Fernanda Pivano, che appunto l'ha conosciuto in Italia, confermava che era tutto tranne che maccio, perché poteva sembrarlo considerando le sue passioni, quindi il fatto che cacciasse, il fatto che gli piacesse la pesca, le corride, però poi nel rapporto con le altre persone era scruffone con le persone che non gli apparivano sincere. Però in realtà poi con le persone oneste, quasi tra virgolette pure, che non avevano doppi fini nei suoi confronti, era molto generoso, gli aiutava, era una persona che non giudicava, quindi è un po' difficile insomma dargli appunto questa etichetta di maccio. Forse è un'etichetta, sì, che sicuramente anche lui ha contribuito a creare tutte le esperienze che ha fatto, comunque si è buttato nella guerra quando aveva 18 anni, sembra che tutte queste esperienze lo facciano sembrare un uomone insomma che non ha paura di niente. Invece in realtà il suo percorso secondo me è pieno di di profonda rassegnazione verso comunque una vita contro cui non vincerà. Lui ha portato avanti le sue relazioni fino in fondo, cioè il fatto di aver sposato le persone, le donne che da cui era tratto, comunque sposato quattro donne, vuol dire che comunque lui credeva nell'impegno, non era un farfallone, era un farfallone perché ha avuto anche molte relazioni extraconiugali, però comunque cercava di impegnarsi nel portare avanti una storia d'amore e questo secondo me è un punto a suo vantaggio. Poi il rapporto con le donne secondo me è stato marchiato molto da sua madre che lo cacciò anche di casa arrivato a un certo punto della sua vita perché al ritorno dall'Italia Hemingway si sentiva un po' spaesato e incominciò a darsi una bella vita e dopo alcuni anni la madre disse che vogliamo fare e lo cacciò di casa attraverso tra l'altro una lettera e lui quando lesse questa lettera rimase molto scossa e si diede poi alla ricerca di un lavoro che trovò nel giornalismo. La madre non l'ha mai accettato, non ha mai accettato la sua passione per la scrittura e non ha mai accettato che non avesse iniziato l'università e che non avesse continuato il suo percorso da violoncevista perché la madre era una cantante, sognava per lui insomma forse un sogno che in realtà era il suo ha messo delle aspettative sul figlio che invece era profondamente diverso da lei che aveva tutt'altro interessi poi diciamo il rapporto con il padre era ovivalente perché il padre soffriva, si dice, di disturbo bipolare infatti anche il padre si è suicidato quando lui comunque aveva 30 anni e questo rapporto l'ha segnato molto perché non è facile essere figlio di una persona che a periodi in cui è molto felice, pieno di energie potrebbe veramente vincere tutte le battaglie del mondo e poi in un altro periodo si sente un fallito supremo, questi profondi sentimenti di perdita quindi diciamo il rapporto con i genitori da una parte, la madre che ha segnato poi tutti i rapporti successivi con le donne, il rapporto col padre che poi si pensa che Henry abbia ereditato questa malattia mentale l'ha segnato parecchio addirittura adesso c'è quasi una moda sostengono che i bipolari sono degli artisti e quindi diciamo... ma chi è, da un punto di vista psicologico e anche psichiatrico, chi è il bipolare? il disturbo bipolare consta di due periodi ci sono i periodi di up e i periodi di down e il periodo di up che è poi quello che adesso diciamo viene declamato e viene considerato il periodo di creatività di un'artista è un periodo in cui la persona pensa di poter ottenere tutto quello che vuole sembra quasi drogato, non ha limiti per quello si parla dell'io ipertrofico, cioè la grandezza dell'io non si considera più limitato si considera una persona che può ottenere tutto dalla vita questo però viene controbilanciato da un periodo invece di estrema depressione di sentimenti di perdita perché poi è come se ci fosse una consapevolezza artiva di non poter ottenere tutto quello che si vuole dalla vita e quello che vorrei sottolineare è che ci sono vari gradi di disturbo quindi è vero sì che molti artisti soffrivano di questo disturbo si parla anche di Virginia Woolf oppure si parla di Pellac poi le artisti ne soffrono, ne hanno sofferto però a gradi diversi Virginia Woolf ad esempio è un'altra scrittrice che poi si è suicidata in uno dei suoi periodi di Down Hemingway secondo me ha peggiorato anche il suo disturbo perché faceva molto uso di alcool e questo ha creato da età diciamo anche una perdita di memoria altri problemi che insomma hanno cercato di risolvere facendo, marcandogli degli elettroshock l'elettroshock brucia delle connessioni fra neuroni quindi lui ha iniziato a soffrire proprio di mancanza di memoria dovuta appunto agli elettroshock quindi da un certo punto di vista il fatto che si sia suicidato non è solo dovuto a una serie di sensi di colpa per la vita che aveva vissuto ma soprattutto proprio preso da questa sofferenza perché non riusciva neanche più a scrivere non aveva più, non era più lui insomma non aveva più le facoltà che aveva negli anni dopo oggi come oggi come si cura chi è affetto da un disturbo dell'umore e anche chi soffre di depressione? allora la depressione è diversa dal disturbo picolare perché abbiamo soltanto i periodi di down il disturbo picolare è un po' più pericoloso ed è più difficile da curare perché la persona quando è nel periodo di acqua pensa di non aver bisogno di nessuno quindi è difficile riuscire a prenderli in cura perché sentono di non aver bisogno di cure appunto perché sentono di essere i migliori nel mondo entrambi i tipi di disturbi il farmaco è fondamentale per il disturbo picolare è fondamentale un farmaco stabilizzatore perché per fortuna adesso come neuroscienze con lo sviluppo della farmacologia si è scoperto quali sono i neurotrasmettitori che hanno dei problemi strutturali non voglio andare troppo nello specifico comunque il farmaco è quello che stabilizza maggiormente la persona e poi giustamente però ci deve essere un apporto psicoterapeutico perché soprattutto quando la persona sta nel periodo di acqua non si rende conto che deve prendere i farmaci quindi il supporto psicoterapeutico serve a farla entrare un po' nell'ottica per prendere i farmaci per tutta la vita e di dover sapere che insomma il suo periodo di acqua è un periodo per uscire a controllarlo, capire da subito i sintomi predromici C'è una cosa che interessa moltissimo che riguarda poi la maggior parte degli artisti di quelli che noi consideriamo essere così impareggiabili, così elevati ma che poi in realtà loro stessi non è che si considerano così bravi tanto da dipendere a volte creativamente da altre persone nel caso di Hemingway questo rapporto c'è stato con il suo editor il rapporto tra Hemingway e Perkins è un rapporto che secondo me va molto preso in considerazione perché dopo la morte di Perkins Hemingway cadde anche una sorta di crisi creativa vogliamo ricordare il rapporto che esiste tra Perkins ed Hemingway e comunque tra una persona che è creativa e colui che gli permette di far emergere questa creatività Hemingway ha sempre cercato secondo me delle figure quasi paterne o materne con cui rapportarsi perché anche nei primi anni quando arrivò a Parigi lui ascoltava molto i consigli di Gertrude Steiner che gli consigliava anche le letture da fare quindi non è il primo rapporto insegnante maestro che ha avuto Hemingway io penso che proprio le persone che sono così creative quasi un'esplosione di creatività per Hemingway avessero bisogno di qualcuno che li creasse dei limiti attorno a lui attorno a quello che scriveva poi Hemingway lo scrive anche in un suo romanzo la prosa è architettura diceva lui nel senso che non scriveva di getto poteva sembrare, la sua scrittura era molto semplice poteva sembrare una scrittura di primo acchitto e invece Hemingway rifletteva molto su quello che scriveva era molto articolato il processo perché cercava di rendere dei concetti complicati in modo semplice e poi cercava di non descrivere le emozioni ma suscitarle con la scrittura e penso che questo lavoro avesse bisogno di qualcuno che lo guidasse perché è difficile riuscire a capire da soli se quello che scrive può suscitare un'emozione nell'altro e penso che lui cercasse proprio questo confronto Hemingway è stato fortunato ha conosciuto comunque personaggi eccellenti ha avuto questo editor che era Perkins oggigiorno questo ruolo per i ragazzi da chi può essere rivestito? adesso diciamo ci sono due inconvenienti a questo proposito il primo è che non c'è più rispetto per l'autorità il secondo è che purtroppo la figura del professore, del maestro non viene più vista come qualcosa che può dare segnamento di vita allo studente soprattutto dai genitori che tendono sempre a difendere il proprio figlio qualsiasi cosa succeda e non si fidano più dell'autorità del maestro però sarebbe auspicabile che invece la scuola cominciasse ad avere il ruolo che aveva pochi anni fa indirizzamento verso la vita proprio insomma come era un tempo cosa ci lascia in eredità Ernest Henry? secondo me il concetto fondamentale che ci lascia è è quella di vivere e lottare nella vita i suoi personaggi sono sempre dei personaggi stoici molto forti che fanno sempre qualcosa che va quasi verso la morte ma cercano sempre di vincerla insomma una lotta stoica contro la morte secondo me il concetto fondamentale che lascia è proprio quello di non aver paura di parlare della morte perché la morte fa parte della vita per chi è più facile secondo te per quelli che credono in Dio o per quelli che la prendono più semplicemente la religione è un gran conforto ma noi altri sappiamo che non c'è niente da temere morire è una brutta cosa quando dura troppo a lungo e ti fa tanto soffrire da un miliardi con Leila Bumbazzari teosofa, spirita, studiosa delle religioni parleremo di questo rapporto tra Hemingway e Dio il suicidio, il fatto che sia un crimine verso se stesso e verso Dio pure nella Biblia dice che il maggior peccato è quello commesso contro il Spirito Santo e noi pensiamo che il Spirito Santo sia qualcosa lontano da noi e che sia un Spirito Santo nella colomba quella cosa lì ma non, il Spirito Santo vuol dire lo Spirito che alleggia dentro di noi è l'alito divino che è stato messo dentro di noi una volta che tu commetti ma pure uccidere qualcuno è un crimine contro lo Spirito Santo il suicidio, chiaro che Hemingway ci avrà pensato ci avrà ragionato su anche se il cattolico sapeva che era un crimine contro le leggi di Dio ma comunque Dio non è uno che sta là con la bacchettina che punisce la gente la punizione siamo noi stessi che ci diamo siamo noi stessi che attraverso le nostre problematiche le nostre cose noi stessi che ci puniamo perché tutte le cose sono collegate e Dio ci ha dato la facoltà di riscattarsi attraverso le nostre lui chiaramente sentendosi depresso la depressione è una cosa gravissima perché apre le porte non solo alla sensazione di nullità che non esiste nulla che lo possa confortare che non c'è nulla che si possa fare ma comunque la depressione porta a questa sensazione di che non c'è manco Dio il suo pensiero non si è sentito manco eretico facendo questo perché quando uno arriva a pensare questo vuoi dire che non considera manco Dio sinceramente uno che se considerasse l'esistenza di Dio uno dice se qua già soffro se devo andare per la chiesa cattolica per esempio all'inferno se devo andare all'inferno perché sono un suicida credo che l'inferno sarà molto peggio di quello che vivo qua penso io perciò lui non considerava proprio l'esistenza di qualcosa di superiore perché se no non l'avrebbe fatto lui ha fatto una cosa in vana quando arriva dall'altro lato la prevenzione è giustamente informare che la morte non esiste ma il fatto che tu ti ne va dall'altro lato non cambia niente tu continuerà con tutti questi sentimenti nessuno diventa buonanima dopo che morri diventiamo tale quale siamo qua quello che voglio dire è proprio questo che è un messaggio che dice che pecare contro il Spirito Santo è questo il nostro tempo interiore la nostra casa il nostro tabernacolo che tutte le esistenze sono collegate tra di loro e la giustizia la bontà di Dio risplendono nella facoltà che lui lascia l'uomo di migliorarsi gradualmente senza mai chiudere la porta del riscatto Dio non punisce mai nessuno siamo sempre noi consapevoli delle nostre cose è un messaggio di amore che dobbiamo avere fiducia a fede non come intesa come credere perché la maggior parte di noi nasciamo già con la crediamo diciamo così più o meno ma nella fiducia in Dio lui è sempre vicino a noi questo vuole dire è un messaggio di Dio Grazie a tutti.